Grazie a questo invito per me, Skillab e Unione Industriale è l'occasione per raccontare a un gruppo di imprenditori, a un gruppo di persone che si occupano di commerciale un atteggiamento diverso, un atteggiamento diverso legato alla formazione, in questo caso la formazione del professor Giuseppe Vercelli con Sfera e alla spettacolarizzazione di tutti i sistemi, tutti i meccanismi psicologici usati dagli anni 50 ai giorni nostri, dalle grandi multinazionali, dei grandi pubblicitari, dai politici per condizionare una scelta. Certo può essere utilizzato, queste tecniche possono essere utilizzate in tanti modi, io mi auguro che possa essere percepita questa serata come la possibilità di pensare che non ci si ferma mai, c'è sempre una ricerca che va avanti e c'è la possibilità di avere più attenzione rispetto a chi abbiamo di fronte. Questa è la serata che ha un titolo, Mind Shock, lo shock della mente o il shock della mente. Grazie.